Buonasera, buonasera a voi. Allora, in questo fine settimana si è tenuto il convegno di Taglia Viva, la Leopolda, che si tiene ormai da parecchi anni. Ed era presente, non tanto a sorpresa, Matteo Bassetti, l'infettivologo che abbiamo imparato a conoscere durante i lunghi anni del Covid. Matteo Bassetti si è detto lusingato della corte che gli sta facendo Matteo Renzi e Taglia Viva, ma che non è interessato anche perché, questa è la risposta tipica di Matteo Bassetti, molto arrogante, lui ha detto che è già il numero uno e non ha bisogno di andare a farlo altrove. Davvero un personaggio estremamente arrogante, Matteo Bassetti. Ora, piano piano, insomma, le cose stanno uscendo, anche se sinceramente non avevamo bisogno di conferme, cioè che la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità, di tutti questi scienziati che bazzicavano nelle varie trasmissioni televisive durante il Covid, guarda caso, sono di sinistra. Da Bassetti a Crisanti, che addirittura si è candidato e stato eletto nelle file del Partito Democratico, a Pregliasco, a Galli, a tanti altri, che pur non essendosi candidati sappiamo perfettamente qual è il loro orientamento politico. E quindi, come succede spesso, era una vera e propria squadra messa in campo da parte del Partito Democratico e da parte della sinistra. Su questo non avevamo molti, molti dubbi. Matteo Bassetti, tra l'altro, è sempre stato nei suoi interventi estremamente sprezzante rispetto a coloro che non la pensavano come lui e, oltre a essere arrogante, ce lo ricordiamo, anche molto maleducato quando si rivolse a un premio Nobel come Luc Montagnier, dicendo che era affetto da demenza senile, che insomma era un Rin Pontini-Puntini. Quindi, ancora per questa cosa, c'è ancora una causa, una querela che la famiglia sta portando avanti. Però, vedete, tutto quello che sta emergendo in questi mesi, in questi ultimi due anni, è semplicemente quello che noi avevamo sottolineato, che era un fatto politico anche la presenza di questi personaggi. Ricordiamo che durante il Covid la televisione, in particolare la Rai, era saldamente in mano alla sinistra, ai comunisti, mentre poi sulla 7, ormai questo è noto da anni Urbano Cairo, sicuramente non uomo ideologicamente schierato a destra, aveva messo su questa televisione per dar manforte al Partito Democratico e alla sinistra. E quindi tutto questo pullulare di scienziati, di personaggi che volevano dirci cosa bisognava fare durante il Covid erano assolutamente tutti di sinistra, compreso anche lo stesso Burioni, che non ho ancora menzionato. Quindi, probabilmente per il momento non scenderà in pista Matteo Bassetti con il centrodestra, ma intanto lui è già un numero uno e non ha bisogno di dimostrarlo altrove, come ha dichiarato. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.